Dopo il successo delle puntate Esplorare i confini andate in onda sia su Fano TV che pubblicate sul canale YouTube, il Circolo Culturale Bianchini di Fano organizza per il mese di aprile, maggio e giugno un ciclo di appuntamenti che spaziano tra mostre, approfondimenti e proiezioni. Il primo tema, in programma dal 22 al 24 aprile, sarà dedicato alla conoscenza e al pensiero dell'arte del Giappone Classico curato da Massimo Raveri, professore ordinario di religioni e filosofie dell'Asia orientale dell'Università di Venezia. È un evento di altissimo livello, si articolerà in tre giornate anche con esibizioni musicali. Nel primo giorno, ad esempio, il professor Raveri tratterà il tema degli sciamani delle montagne sacre, i Yamabushi. Al termine di questa prima conferenza ci sarà un'esibizione di taiko, il tamburo giapponese. Il secondo giorno parlerà del linguaggio di fronte all'assoluto, quindi il buddismo zen e il linguaggio per esprimere l'ineffabile e l'inesprimibile. Il terzo giorno il tema sarà invece quello dell'arte giapponese come via spirituale. Il secondo incontro invece riguarda la storia del regista Pierpaolo Pasolini. Al nuovo Cinema Masetti, infatti, verrà dedicata a una rassegna cinematografica dedicata al centenario della sua nascita, nelle date del 13 aprile, 18 maggio e 8 giugno. Si tratta di tre proiezioni, però tutto inizierà il 13 aprile anche con una conferenza di Roberto Chiesi, che è il direttore dell'archivio Pasolini della Cineteca di Bologna, che parlerà di Pasolini come regista. Alla sera di quel 13 aprile, poi sempre Roberto Chiesi presenterà Edipo Re, di Pasolini, il film tratto dalla tragedia di Sofocle e quindi ci sarà anche la proiezione di questo film. Poi seguirà a maggio il Vangelo secondo Matteo, il 18 maggio e infine l'8 giugno a Cattone, con due proiezioni, una pomeridiana e una serale. Quindi questo è il modo in cui il Circolo Bianchini celebra il centenario di questo grande poeta, scrittore e anche appunto regista. Il programma completo degli appuntamenti è visibile attraverso il sito del Circolo Culturale Bianchini. L'evento che nasce in collaborazione con il Comune di Fano, con l'appoggio del Sindaco, si propone anche come un'occasione di turismo culturale di alto livello. Noi abbiamo pensato a questa cosa proprio perché riteniamo che persone anche che vengono da altre regioni, dalla Lombardia, dal Piemonte o da altre parti d'Italia possono venire a Fano, trovare una bella città.